Gli autotrasportatori veramente stanno partendo proprio a questo punto con una determinazione forte perché è impossibile, dicono, riuscire a contenere veramente questo prezzo diventato alle stelle del carburante. Ne parliamo con Federico Maio, presidente provinciale di FIAP, che è della Federazione Italiana Autotrasportatori Professionisti. Che cosa succederà lunedì? Ma allora, noi sono già alcuni mesi che cerchiamo di parlare con il governo per la situazione che è diventata insostenibile. Non solo la questione del gasolio, ma anche altre questioni. Adesso la goccia che fa traboccare il vaso, diciamo, è proprio questo aumento che in due mesi ha portato più del 30% di aumento del gasolio. Quindi lunedì in realtà non è stato confermato un vero e proprio sciopero generale. Inizieranno alcune associazioni di carriera ad entrare in sciopero. Ma sono convinto che da lì, nell'arco di una settimana, anche le altre categorie, oppure in modo spontaneo, i trasportatori faranno questo sciopero, che poi in realtà non è uno sciopero, perché purtroppo ci si ferma perché bisogna fermarsi. Non puoi sostenere il differenziale del costo del gasolio. Ovviamente cominceranno a mancare le merci, quindi ovviamente la gente anche in qualche modo verrà toccata da questa situazione. Sì, io non voglio creare nessun allarmismo, ma è logico che ci sarà questa rincorsa. In Sardegna ieri per un WhatsApp di un blocco paventato per 15 giorni hanno iniziato l'assalto ai supermercati. Non deve essere quello, perché poi bene o male le scorte ci sono, in qualche modo ci saranno i trasporti essenziali. Quindi non bisogna fare allarmismo, però sicuramente ci saranno dei disagi. La situazione speculativa interviene sempre in queste situazioni qua? Ma sì, figuriamoci che il gasolio extra rete, cioè quello che usiamo noi nelle nostre cisterne, attualmente costa di più di quello sulla rete. E i distributori extra rete dicono che non c'è. Quindi c'è sicuramente in alto una speculazione a livello di grandi depositi. Quindi diciamo Marghera, piuttosto che Mantua, piuttosto che Genova. Quindi c'è qualcosa sotto che dovrà uscire fuori. Mi fa ridere un pochettino quello che dice il Ministro, che tra 25-30 mesi saremo praticamente liberi dal gas dalla Russia. Ma tra 30 mesi chi è che c'è? Se queste sono le condizioni non c'è più nessuno. Cioè noi spendiamo 300-400 euro in più per fare un pieno di gasolio a un camion. 300-400 euro in più. Quei soldi lì. La committenza ancora al momento non l'ho riconosciuta. Io come azienda ho fatto partire a tutti i clienti una lettera dicendo che dal primo di marzo ci sarà un aumento del 10%. Ma io non lo so se poi i miei committenti diranno no. I contratti sono dei contratti firmati in un certo modo. Quindi speriamo che abbiano buon cuore. Io ho sentito veramente dire nel mondo dell'autotrasporto in questo periodo ci rivolgiamo anche le persone, la gente e chiediamo alla gente che ci capisca. Sì, noi siamo stati quando nel periodo di Covid insieme agli infermieri eravamo gli eroi, sì sulla carta come gli infermieri, nessuno ha fatto poi più nulla. Cioè nel senso che siamo degli eroi che ancora per due anni non potevamo andare a mangiare, non potevano fermarsi nei servizi igienici, dovevano farli per strada o parecchi si sono comprati dei bagni chimici portatili. È una vita dura e difficile e a volte non è capita. Poi il problema che abbiamo è che oggi non si trovano più gli autisti, non c'è più la scuola, non esiste più una scuola, non esiste più nulla. Eppure il mercato richiede questa professione, non può essere abbandonato perché ci va anche una professionalità su questo.